In qualche maniera io ho voluto cimentarmi con questo tipo di espressione artistica che è la Land Art è una novità per me, quindi appunto è un mettersi in gioco insieme ad altre persone si tratta di un'installazione che si armonizza molto bene nel contesto naturale abbiamo richiamato in qualche maniera il segno dell'infinito, se vogliamo, espresso in maniera tridimensionale il nastro di Mebius a livello tridimensionale richiamano, è un discorso di una circolarità della vita e di tutto quello che è legato appunto alla natura il fatto appunto di trovare un tronco morto in qualche maniera e un albero comunque in vita ci ha fatto pensare proprio a questo concetto dell'infinito, espresso a livello appunto segnico però come dicevo precedentemente richiama anche il nastro di Mebius che è un continuum quindi un discorso di un'espressione della natura che continuamente si rigenera in senso lato della vita in sé rispetto a quello che vado a fare io normalmente perché comunque mi esprimo sia a livello di scultura che di pittura sono tra l'altro anche architetto quindi sono molto portato per un tipo di operazione artistica molto rigorosa, essenziale quindi di stampo minimalista questa cosa qua esula proprio dal mio linguaggio e in qualche maniera abbiamo appunto voluto assecondare e quindi addomesticarci in qualche maniera come artisti e seguire un po' l'ispirazione che ci poteva fornire appunto il contesto e l'opera naturale quindi il tronco, questa sinuosità, questa struttura a ponte che ci ha suggerito appunto questa cosa